Il microfono, il microfono. Grazie. Grazie. Sono, in assoluto devo dire che sono profondamente onorata non solo per conferire l'agrogino a Steve McHenry ma di avere per la prima volta in Italia una mostra di Steve McHenry. Questo è quello che sia per Milano un fattore davvero di grande orgoglio. Quando ci siamo incontrati l'anno scorso, non era molto tempo fa per iniziare questo nostro percorso si può essere un viaggio come quelli che Steve McHenry usò a fare nel mondo io sono stata profondamente emozionata dall'idea di poter avere nella nostra città le sue immagini. immagini che hanno un filo rosso credo come Steve McHenry stesso definisce un filo rosso della condizione umana al di là dell'epoca del tempo dello spazio dei paesi nei quali Steve McHenry nei suoi 30 anni di carriera ha catturato queste immagini straordinarie il senso forse più profondo di quello che Steve McHenry ci vuole comunicare è la condizione umana che è uguale nei diversi paesi e questa è l'essenza più profonda della sua opera artistica un'opera artistica che come tutti sapete ha io credo tre filoni straordinariamente importanti uno è quella del viaggio come ho detto Steve McHenry ha viaggiato nella sua vita so che non ama cittare i paesi soprattutto i paesi dove ha preferito operare perché credo che proprio per questo rispetto della condizione umana ogni paese è uguale all'altro e quindi il concetto del viaggio è però uno dei fili conduttori dell'opera di Steve McHenry il secondo altrettanto straordinario altrettanto bello è quello dei mimmi dei volti dei mimmi dei fanciulli delle persone che a volte vengono visti anche nelle dimensioni più drammatiche più violente più povere quindi mi è riferito soprattutto a tutti ricordarci dei paesi di guerra che come dicessi in italiano hanno fatto bene i capelli bianchi e la terza dimensione è quella della capacità di dare dignità bellezza e senso artistico anche ai gesti quotidiani alla dimensione familiare e mi sembra che questi tre elementi dell'opera di Steve McHenry ne fanno giustamente uno dei fotografi più conosciuti più amati al mondo per il quale giustamente ha avuto il premio Nobel Photo World il premio Nobel della fotografia lavorando con i giornali più importanti del mondo e nelle situazioni che poi ha testimoniato più anche più 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 drammatiche quindi ne cito solo due ma dall'Afghanistan al Tibet e al 11 settembre dove se non ricordo male si era appena ritornato da un viaggio in Tibet quindi è riuscito a dallo suo studio che si affacciava alle torri a fotografare in un modo estremamente intimo se posso dire molto particolare anche quell'evento drammatico ecco parlare di Steve McHenry secondo me è impossibile bisogna solo immergersi nelle sue opere lasciarsi trasportare da queste opere di una straordinaria bellezza che coniugano bellezza e impegno sociale quindi credo tutti questi e forse tanti altri sono i motivi per i quali Milano è orgogliosa e fiera di poter conferire la nostra più alta neovicenza la brocina d'oro e un ringrazio molto particolare a Tania Solci che ci ha presentato Steve McHenry e che è curatrice di questa bellissima mostra che ripercorre insomma tutta la carriera di questo grandissimo artista per la prima volta ripeto in Italia grazie 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 Sì, c'è un po' di persone che voglio ringraziare in additione per il Presidente del Presidente del Presidente del Presidente del Presidente del Presidente del Presidente. Sì, il Signor Piana che ha reso possibile questa mostra. Gaia Morelli di Civitas per aver coordinato in tutti gli aspetti organizzativi di questa mostra. Grazie. 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 Grazie.